Non si può uscire, non si possono fare tante cose. Adesso anche il quasi totale blocco dei mezzi di trasporto per passeggeri dà e per la Sicilia. Raramente questi provvedimenti trovano consensi unanimi. C'è chi critica e chi rivuole la propria libertà. Ed è anche comprensibile che tutti vorrebbero muoversi senza limiti, andare e tornare dove e quando vogliono. Ma la storia ci ha avvertiti in maniera inequivocabile. Non è questo il momento giusto. Siamo favorevoli, lo vogliamo sottolineare, a qualsiasi tipo di limitazione temporanea. Ovviamente se ritenuta arma utile per battere il grande nemico. E dunque, pur essendo abituati ad ascoltare il parere di tutti, per una volta abbassiamo drasticamente il volume di radio lamentela. Noi siamo per la vita e non per le polemiche di chi non ha ancora compreso bene quale battaglia l'Italia e la Sicilia stiano combattendo.